Start, 2, 1, Mission, and Liftoff! Sono quelle meccaniche in cui voi mettete la monetina nella macchinetta e vi scende la pallina, no? E sperate sempre di trovare quello che vi piace. La meccanica è questa, però non per le palline, ma per i personaggi. Il gioco, come vi ho detto, è in italiano ed è un free to play. Ora, sul tubo troverete un'infinità di video tutorial che ho seguito anch'io, quindi io non insegno nulla, non porto via il lavoro a nessuno. Voglio solo farvi un ragionamento e parlarvi un pochino di questo gioco. L'ho appena iniziato, cioè sono a livello basso, abbastanza basso, ma mi ritrovo in alcuni consigli che ho visto guardando appunto di video tutorial. Beh, prima di tutto vi dico solo questo. Il gioco ha una cura pazzesca ed è ampiamente giocabile in free to play. Ovviamente se avete pazienza, quindi non è nessun... però ovviamente se tanta gente paga nel gioco, motivo che ci hanno fatto parecchi soldi e lo hanno deciso di tradurlo in italiano, perché ne valeva la pena. E tra l'altro dicono, poi io da quello che ho visto confermo, lo hanno tradotto veramente bene, non Google Translator, ma proprio tradotto bene. E se hanno fatto una traduzione di una tale cura è perché stanno facendo parecchi soldi. Ora direte, eh ma è un pay to win. Il discorso, che non vi ho detto ancora di questo gioco, il gioco non è multiplayer, è single player. Potete unirvi ad amici e quindi combattere con loro, fare missioni secondarie con loro, ok, ma non è un MMO. Quindi, che senso avrebbe spendere per se stessi? Nessuno. A parte che ci sono dei servizi che non costano tantissimi, a cui potete abbonarvi, costano... sono due servizi, uno da 5 euro e uno da 9,99. Quindi 15 euro li fate entrambi e guadagnate giorno per giorno delle cose in più, oltre a quelle che guadagnate già di base nel gioco. Ma non sono qui per parlarvi di come fare le cose, perché non lo so nemmeno io, nel senso mi sto divertendo a scoprirle e soprattutto seguendo il grande consiglio che mi hanno dato di giocarmelo e godermelo tranquillamente, senza fretta. Il gioco ha tante cose, dal livello 15 sbloccate il multiplayer, dal 45 addirittura l'housing e ci sono una serie di cose da sbloccare e scoprire senza fine, tra cui gli oggetti. Io adesso ho 5 personaggi nel gruppo, che sono questi. In realtà ne sto usando 4, perché ne potete portare 4 e potete in qualsiasi momento shiftare da uno all'altro. Di ogni personaggio potete gestire il livellamento, spendendo delle risorse che guadagnate in gioco, facendo missioni, ad esempio io usando questo, di fare guadagnare un livello, la porto a livello 11. Potrei andare a vedere il suo equipaggiamento e gestirmi il suo equipaggiamento, potenziargli, cambiargli la spada con altre che magari ho trovato, oppure decidere la spada stessa di potenziarla. Quindi potenziare la spada o migliorarla, se ne possiedo un'altra identica, la posso unire e diventa più potente, oppure potenziandola usando una di queste risorse che ho in questo caso, gli darei dei bonus abbastanza evidenti. Quindi queste sono delle meccaniche, ma la meccanica base, il cuore del gioco, è quello che voi andate e prendete questi eventi, in cui avete una percentuale di trovare delle persone, dei personaggi insomma, questi vari eventi qui. Poi ovviamente ci sono quelli consigliati, quelli o meno consigliati, ma li vi lascio ai video, che tanti hanno fatto. Spendendo queste sfere qui potete estrarre dei personaggi e tra l'altro avete delle percentuali un po' da diciamo gioco coreano, perché più sbagliate, più poi dopo un tot numero di tentativi avete la possibilità di avere successo fino a un certo punto dove arrivate e avete il 100%. Quindi andate e vi trovate i personaggi, i personaggi li equipaggiate e li cambiate quando volete. Quindi insomma andate a configurarvi il vostro gruppo con i personaggi che meglio si adattano, perché poi appunto in gioco potete, mentre non state sferrando il colpo ma subito dopo, potete passare da uno all'altro e ognuno ha la sua peculiarità, tipo questa spara con l'arco. Però hanno anche le abilità caricate, quindi l'abilità di lanciare frecce, l'abilità di lanciare una distrazione ai nemici, così come, non so, adesso ha questa abilità qui. Ma adesso ve lo faccio vedere. Sto andando a fare una missione secondaria nel recupero di un tesoro, quindi tra l'altro bellissimo il posto qua. La città è bellissima ed è una mappa immensa. Io non ho ancora scoperto assolutamente nulla della mappa, nel senso che non ho scoperto una minima parte che è questa, ma in realtà prima vedevo solo questo. Personato qui si è sbloccata qua e pian piano andrà ad espandersi per tutto. Potrete anche navigare da quello che ho visto. Adesso stiamo andando fuori città perché devo fare una cosa. Poi avete ovviamente i punti di teletrasporto per saltare da una parte all'altra. Non vi spiego nulla di quelle che sono le meccaniche poi dei... Sappiate che bisogna fare missioni giornaliere per, non obbligatoriamente, ma per farvi salire quegli oggetti che poi vi servono per cercare personaggi, ottenere quella valuta di gioco lì. Ed è single player, quindi ve lo giocate con tutta la calma del mondo. Ma adesso anche in italiano, quindi vi godete la storia, che non è male, devo dire, da quello visto finora. La meccanica è un po' simile a quella di Zelda, nel senso che c'è la gestione della stamina. Quindi con la stamina potete poi andare a... Adesso vi faccio vedere qui. Andare ad arrampicarvi sugli alberi, sui vari edifici. Potete trovare degli enigmi ambientali. Adesso è iniziata la pioggia. Degli enigmi ambientali. Che gioco non vi dice cosa fare. Quindi o andate a cercarvelo in internet o... O cercate di capire. Tante volte sono cose elementali. Ora. Tanto per farvi capire la cura del gioco. Adesso io luto perché mi viene da luttare. Pensate, io prendo questo. Lui ha un'abilità. Io devo andare ad esempio di là. Beh, l'acqua poi si combina con i fulmini. Infatti vedete che i fulmini che scendono stanno combinando delle zone abbastanza pericolose sull'acqua. Però io posso fare anche una cosa di questo tipo. Vedete? E adesso non ha logica sta cosa perché... Ci metto un po' a farla. Ha una portata limitata. Però calcolate tutte le cose che poi potete andare a interagire con il mondo. Lui è in grado di congelare. Ovviamente dovete calcolare anche la stamina anche per il nuoto. Onde evitare di affogare. Ora, c'è quella parte lì che non so cosa sia. Probabilmente è una zona di pesca. Non lo so, ipotizzo. Esploro il mondo, vado, faccio le mie missioni, combatto i mostri che incontro, faccio esperienza, faccio livelli, raccolgo, luto, posso minare anche perché è importante per il fabbro. Ci sono... Adesso non vorrei dirvi una stupidata. Quattro continenti in cui esplorare. Ok, io adesso voglio provare il mio nuovo personaggio, questa che ho equipaggiato con un mega spadone. Voglio provare la sua... No, l'abilità caricata non la posso fare. Non è male. Salve. Guardate la traduzione. Quale tizio? Grazie per avermi salvato, sei venuto più affidabili. Ok. Ovviamente c'è una miriade, ci sono una miriade di personaggi che dovete imparare a conoscere. Magari è fondamentale, ecco non magari, è fondamentale informarvi su quelli che giocano gli altri, guardando appunto altri giocare, guardando delle guide. Quindi, appunto perché non è che potete vedere altri personaggi oltre a voi qui. E quindi, ne salteranno sicuramente fuori alcuni che vi daranno dei potenziamenti che vi interessano e quindi vorrete quel personaggio. Calcolate che avete dei bonus, perché voi ne giocate uno alla volta, è vero. Ma i bonus ve li danno comunque. E infatti ci sono dei personaggi che se li avete nel party vi mostrano sulla mappa dove sono le fonti dei minerali, insomma le risorse che vi influenzano avendoli sempre in squadra, dei bonus nel crafting. Cioè c'è veramente un'infinità di roba. Ovviamente non è, come dicono tutti, il classico gioco dove si nerda senza fine. Ma è quello dove magari dopo le prime ore iniziali vi fate qualcosina ogni giorno, un pochino, un po' e andate avanti pian piano con calma, con tutta la calma del mondo. Il gioco ora è in italiano, non dovete neanche essere iper concentrati per capirlo. Scoprite pian piano, senza fretta, non è un gioco che... è un single player alla fine. Con interazione, ok, con altre persone perché avete la possibilità di usare la chat che adesso non ho perché non sono con amici. Ci sono un sacco di cose, gli obiettivi, l'inventario, il manuale dell'avventuriere che vi spiega tutto. Con ogni cosa è dotata di premi. Quindi in questo caso mi diceva fai questo, 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 questo. Io ho fatto tutto e non ho ancora riscattato. Questi sono tra l'altro oggetti che possono essere dati ai vari personaggi. Ne avete decine e decine di personaggi diversi, quindi avete detto io adesso ho fatto grado avventura 8. Grado avventura 8 è discostato da quanto è il livello singolo dei personaggi. Infatti livello 10, livello 10, livello 11, livello 11 e livello 10 lei. Il livello di avventura invece è un'altra cosa, è un'altra cosa ancora e vi determina che quest potete fare. Io infatti ho delle quest di storia principale che richiedono il livello 10, quindi non le posso ancora fare. Ma pian piano, non voglio grindare, vado, giro, scopro un pochino la mappa e così via. L'archivio abbiamo i tutorial dove ci mostra, vabbè no, in realtà ci mostra tutto, tutto quello che c'è in giro. Tutti gli esseri viventi, guardate quanti ne ho scoperti e quanti ce ne sono. I materiali e così via. E sugli desideri invece sono appunto i desideri, i wish si chiamavano. Quindi potete andare a prendere queste, potete convertire la valuta in queste sfere. Queste tra l'altro ne trovate tante ma sono da fare tantissimo perché sono vitali. Insomma io li ho tenuti anche con un droppo guardando video sul canale Viola. Potete andare a segnare il vostro compleanno perché ovviamente questi giochi di origine orientale vi fanno sempre gli auguri, vi fanno qualcosa quando è la vostra festa. Probabilmente qua non è ancora sbloccato tutto perché lo sto sbloccando pian piano. Però volevo darvi le basi di quello che è questo gioco. Ovviamente la mentalità è sempre quella del gioco orientale. Quindi aspettatevi una maggioranza di personaggi femminili. Perché alla fine in Oriente si sa sono fatti così. Quindi se volete qualcosa di occidentale, beh di occidentale ci sono tanto le ambientazioni. Che sono tanto, ce n'è una anche ispirata all'Europa. Ma non aspettatevi che ci siano tutti, soprattutto i personaggi femminili vestiti con armature a piastre. Ecco questo non aspettatevelo se passate sopra a questo. O se comunque vi piace, cercate questo. Sappiate che al momento il mio impatto è migliore di quelli degli impatti avuti con altri giochi. E per concludere appunto vi faccio questo ragionamento. Lost Ark mi è venuto un po' a noia e poi ho visto che era una roba molto hardcore andando avanti con gli altri. Black Desert stesso discorso, anche se molto più vario, molto più soverchiante a livello di equipaggiamenti, di oggetti utilizzabili. Faceva fame a fare molti soldi semplicemente loggando. Ma ovviamente la differenza con la gente che gioca ogni singolo minuto del giorno, stando lì anche a macrare, insomma a fare sempre le stesse cose tutto il giorno per salire di livello, vi rende un pochino gli ultimi, l'ultima ruota del carro. Questo è uno in italiano e gli altri due non lo sono, ma soprattutto è un single player. Ve lo giocate con calma, tranquilli. Ovviamente dovete avere la voglia e la soddisfazione di possedere dei personaggi, magari rispetto al fatto che siete da soli, non c'è nessuno che ve li ammira. Però la soddisfazione arriva da tutt'altra parte, arriva dal fatto che se avete un personaggio che vi interessa, che vi piace, vi piace perché o vi può piacere esteticamente, ma anche magari soprattutto per le sue abilità. E se raggiungete questo obiettivo avete il party dei vostri sogni con cui potete affrontare contenuti che sono spesso giornalieri settimanali o bisettimanali, anche particolarmente difficili e quindi si parla di soddisfazione personale. Così come vi giocate un Elden Ring facendovi l'armatura, o anche in Skyrim, o in ogni titolo single player e nessuno vi vede, vi domandate perché la devo fare per voi. Quindi diciamo che Genshin ha ovviamente fatto i soldi così, ma li ha fatti senza il pay to win. Secondo me è un parere mio, però volevo consigliarvi questo titolo che trovate su Epic, gratuito. Lo potete giocare anche su PlayStation, su console, ma soprattutto lo potete giocare anche da cellulare, se avete un cellulare piuttosto potente. E io ho provato stamattina e ho logato dove ero esattamente arrivato qua col PC. Ovviamente devo abituarmi un po' al fatto che si guida un touch, insomma, bisognerebbe attaccare un pad al telefono. Però è godibile, bellissimo anche a livello grafico, ha i settaggi grafici anche quello, ovviamente i comandi sono quelli touch. Però ecco, spero di avervi fatto, cosa credita di avervi fatto questo speciale riguardo a Genshin Impact, spero di avervi incuriosito. Sicuramente, come dico sempre a tutti, la lingua italiana non conviene mai a nessuno, probabilmente a loro è convenuto. Perché puntano di avvicinare tanta gente e secondo me, calcolando anche il fatto che io mi ci sono avvicinato per primo e mi sta piacendo, diciamo, e io sono uno dai gusti piuttosto difficili, direi che hanno avuto ragione, finora. Ragazzi, fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate e noi ci sentiamo a un prossimo video game play. Alla prossima ragazzi e... Ciao ciao!